Ammortamento a rate costanti L'esercizio presenta il caso della famiglia Gravic, che sei anni fa aveva preso in prestito un capitale di 46.000 euro, convenendo il rimborso in 16 anni con rate di 5.000 euro. Oggi, dopo il pagamento della sesta rata, concorda con il creditore di versare per quattro anni successivi rate annue da 3.500 euro e poi di riprendere l'ammortamento con metodo uniforme per gli ultimi sei anni. Inoltre, dopo la rata appena versata, il tasso viene aumentato di un punto percentuale. Il problema chiede di calcolare il tasso dell'ammortamento, la parte di debito da ammortizzare negli ultimi sei anni, l'importo della quota costante di capitale per gli ultimi sei anni e l'importo dell'ultima rata. Inoltre, viene richiesto di stendere il piano di ammortamento per i primi tre anni e per gli ultimi tre anni. Siccome l'esercizio si articola in diverse richieste, scegliamo di risolverlo stendendo i tre piani di ammortamento che corrispondono alle tre modalità di pagamento del debito. Leggeremo poi i vari dati richiesti dal problema sui piani di ammortamento. Iniziamo quindi a stendere il piano di ammortamento del rimborso in 16 anni con rate di 5.000 euro. Osserviamo che non conosciamo il tasso di interesse dell'ammortamento, che quindi andrà determinato sulla base degli altri dati. Iniziamo quindi a impostare una tabella con 17 righe, una per ciascuno dei 16 anni, più una per i dati iniziali, e sei colonne, corrispondenti all'anno, alla rata, alla quota di interesse, alla quota di capitale, al debito estinto e al debito residuo. Sappiamo che il debito residuo al primo anno è 46.000 euro e che la rata dell'ammortamento è costante e pari a 5.000 euro. Iniziamo a inserire questi dati nella tabella. Ora ricordiamo dalla teoria che la quota di interesse relativa a un anno è uguale al tasso di interesse I per il debito residuo all'anno precedente. Possiamo quindi inserire nella casella C7, quella della quota di interesse del primo anno, la formula $B$3 per F6. La casella B3 conterrà il tasso di interesse, mentre la F6 contiene il debito dell'anno precedente. I segni di dollaro servono per fissare il riferimento alla cella che contiene il tasso di interesse. Questa, infatti, non dovrà cambiare quando copieremo la formula nelle caselle sottostanti. Per calcolare la quota di capitale relativa a un anno, ricordiamo che la quota di interesse è la differenza tra la rata e la quota di capitale relativa allo stesso anno. Da questa formula possiamo ricavare la quota di capitale come la differenza tra la rata e l'interesse relativo allo stesso anno. Riportiamo la formula su Excel. Nella casella D7 inseriamo la formula B7, cioè la rata, meno C7, cioè l'interesse relativo al primo anno. Ora calcoliamo il debito estinto. Per definizione, questo è la somma del debito estinto all'anno precedente con la quota di capitale versata nell'anno corrente. Riportiamo questa formula su Excel. Nella casella E7 inseriamo D7, cioè il debito estinto all'anno precedente, più E6, cioè la quota di capitale versata il primo anno. Osserviamo che la formula è corretta anche se la casella D7 è vuota, perché all'anno precedente non c'era ancora un debito. Il piano di ammortamento è quasi completo. Dobbiamo inserire solamente la formula per calcolare il debito residuo al primo anno. Questo è pari alla differenza tra il debito iniziale e il debito estinto. Riportiamo questa formula su Excel. È sufficiente inserire nella cella F7 la formula $F$6-E7. Ora copiamo le formule da C7 a F7 nelle caselle sottostanti, fino a riempire il piano di ammortamento. Osserviamo che i valori nel piano di ammortamento non sono corretti, perché per ora non abbiamo inserito alcun tasso di interesse. Per stimare il tasso di interesse, dobbiamo trovare quel valore di I, per cui il debito residuo al sedicesimo anno è uguale a 0. Proviamo a inserire, per esempio, I uguale a 0,05, che corrisponde a un interesse del 5%. Vediamo che anche in questo caso il debito residuo al sedicesimo anno è negativo. Di conseguenza, l'interesse sarà maggiore. Se effettuiamo alcune prove, possiamo vedere che per I minore o uguale a 0,07, il debito residuo al sedicesimo anno è sempre negativo, mentre per I uguale a 0,08 il debito è positivo. Di conseguenza, il tasso sarà compreso tra questi due valori. Per rendere più precisa la nostra stima, proviamo i valori di I compresi tra 0,07 e 0,08 con un incremento di un millesimo. Siccome per I minore o uguale a 0,074 il debito residuo al sedicesimo anno è negativo, mentre per I uguale a 0,075 il debito è positivo, il tasso sarà compreso tra questi due valori. Procedendo in questo modo, si può ottenere una stima del tasso di interesse della precisione desiderata. Sulla base di questi dati possiamo iniziare a rispondere ad alcune domande dell'esercizio. Il tasso di interesse è pari a circa il 7,402171% e il piano di ammortamento per i primi tre anni è riportato in figura. Ora ricordiamo che alla fine del sesto anno la famiglia Gravich concorda un nuovo metodo di restituzione del debito residuo. I primi quattro anni prevedono un ammortamento a rata fissa di 3.500 euro. Inoltre, il tasso di interesse aumenta di un punto percentuale. Per costruire il piano di ammortamento relativo a questo periodo, è sufficiente copiare le prime cinque righe del primo piano di ammortamento compilato e modificarle con i dati del nuovo ammortamento. Iniziamo a effettuare la copia in un nuovo foglio di Excel. Ora, aggiorniamo la rata, che è pari a 3.500 euro, il tasso di interesse, che è pari a 0,8402171 e il debito residuo, che non è più di 46.000 euro, ma che è uguale al debito residuo alla fine del sesto anno del primo ammortamento. Su questo piano di ammortamento possiamo leggere la quota di debito da ammortizzare negli ultimi sei anni, che è pari a 31.738,98 euro. Ricordiamo che questa cifra viene ammortizzata negli ultimi sei anni con un ammortamento a quote di capitale costante. Di conseguenza, possiamo calcolare la risposta al punto 3 dividendo la risposta data al punto 2 per 6. Otteniamo che l'importo della quota costante di capitale per gli ultimi sei anni è di 5.289,83. Per rispondere alle ultime domande, stendiamo il piano di ammortamento per gli ultimi sei anni. Possiamo iniziare a copiare il secondo piano di ammortamento allungandolo di due anni e copiando l'ultima riga nelle celle sottostanti. Ora, modifichiamo il debito iniziale determinato al punto 2 e la quota di capitale inserendo il valore determinato al punto 3. L'ultimo valore da modificare è la rata annua, che nell'ammortamento a quote costanti di capitale è uguale alla quota di capitale più l'interesse annuo. Inseriamo questa relazione nella cella B7 scrivendo uguale a C7 più D7, poi copiamola per le celle sottostanti. In questo modo abbiamo ottenuto il valore dell'ultima rata, cioè 5.734,29. Inoltre abbiamo anche determinato il piano di ammortamento degli ultimi tre anni, che si ottiene dalle ultime tre righe della tabella appena costruita. Grazie. 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 Grazie.